Musica Milano Pavia News edizione giorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con il nostro telegiornale torneremo oggi sul tema della scuola, il quartiere Cutiotto, la scuola Martin Luther King allagata a Milano si cercano di trovare soluzioni per questi bambini che non sanno dove andare a fare lezione a Pavia invece parlando di interventi necessari su strutture pubbliche si è tornato a discutere del caso della piscina Folperti in consiglio con la possibilità, paventata dal sindaco, anche che a SM si possa presentare al bando in città sempre a Pavia però dobbiamo darvi notizia anche di un altro grave episodio di transfobia un attacco a una 38enne in un parcheggio per questioni di viabilità Iniziamo però con una notizia relativa alla viabilità sulla A7 perché da questa mattina si sono formate lunghe code in direzione Milano appunto sulla Milano-Genova, poco prima delle 8 c'è stato un tamponamento tra due mezzi pesanti che ha portato alla chiusura del tratto tra Casei Gerole e Groppello Cairoli successivamente attorno alle 9 e mezza un operaio a lavoro in un cantiere stradale nello stesso tratto di autostrada è stato invece investito da un camion le condizioni dell'uomo sono gravi un 42enne è stato trasportato in codice rosso a San Matteo di Pavia si sono formate lunghe code anche sulle provinciali come vedete dalle immagini qui siamo al casello proprio di Groppello al momento però la situazione è in fase di miglioramento e adesso ci spostiamo a Milano andiamo a collegarci in diretta con Giovanni Migone ed Amicis appunto per tornare sul caso della scuola Martin Luther King zona QT8 Giovanni, ieri avevamo raccontato dell'allagamento del crollo di alcuni controsoffitti è una scuola che da anni attende interventi ora si cerca di capire ovviamente come ridistribuire i ragazzi che dovranno cercare ovviamente delle nuove aule dove andare a fare lezioni Esattamente Luca, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori oggi è il giorno dopo è il giorno ovviamente della ricerca delle soluzioni ma anche il giorno un po' della rabbia e della frustrazione da parte dei genitori soprattutto che questa mattina intorno alle 7.30, alle 8 si sono riuniti nuovamente davanti alla scuola Martin Luther King chiusa inevitabilmente per protestare, per chiedere che davvero vengano prese misure non solo temporanee per poter di fatto in questo momento, in questi giorni dare una scuola e delle classi ai bambini ma che davvero vengano effettuati dei lavori strutturali soprattutto per quanto riguarda la copertura lo ricordavi tu annunciando il collegamento tante le aule allagate compreso il locale Mensa in due aule e nel locale Mensa sono anche crollati i controsoffitti da questo punto di vista il presidio dei genitori e dei ragazzi questa mattina è andato in scena molto presto questa mattina con i genitori e i bambini che hanno anche bloccato la circolazione il traffico davanti alla scuola camminando avanti e indietro sulle strisce pedonali davanti all'istituto ed è stato necessario anche l'arrivo di tre pattuglie della polizia locale per riprendere la circolazione ma come dicevamo oggi è anche il giorno della ricerca delle soluzioni quantomeno delle soluzioni tampone per far fronte all'emergenza che è appunto attuale si parla di una ridistribuzione dei ragazzi in particolare la preside ha spiegato di aver trovato sette aule disponibili in una scuola vicina la scuola Ricci che fa parte dello stesso istituto comprensivo si parla di una possibile accoglienza all'interno dell'oratorio che si trova lì a due passi l'oratorio di Santa Maria Nascente e soprattutto l'opzione più al momento indicata sarebbe quella di una scuola che però si trova a una mezz'ora a piedi dalla Martin Luther King la scuola di Via Dolci che è al confine del quartiere San Siro un'opzione che però non è molto gradita anzi per niente gradita ai genitori e vi facciamo capire perché nelle parole prima della preside e poi di uno dei genitori degli alunni ho dato la disponibilità di sette aule in Ricci nel plesso Ricci anche se vengono meno alcuni laboratori poi i ragazzi mentre c'è la disponibilità di undici classi c'è la disponibilità di undici classi nel plesso in Via Dolci la Dolci non rappresenta una soluzione perché la Dolci ha a disposizione l'ultimo piano quindi il sottotetto che già era stato protagonista di vicende analoghe a quelle della Martin Luther King è uno spazio chiuso da anni quindi anche in condizioni igieniche tutto è da verificare e a Milano rimane alto anche il problema dell'emergenza abitativa questa mattina si sarebbe dovuto tenere lo sfratto di una mamma con tre bambine che non è riuscita a pagare l'affitto doveva essere sfrattata però per appunto per morosità in questo caso incolpevole c'è stato un presidio lo sfratto è rinviato ma il tema grande rimane quello della mancanza di case popolari per le fasce fragili della popolazione Com'è vivere in queste condizioni adesso così con i figli con questa preoccupazione anche addosso? No, veramente non è facile è molto difficile Poi cosa speri per il futuro? Spero che arriverà una nuova vita Sì È una nuova vita quella che l'Oradel spera per sé e per le sue tre figlie una vita in cui può avere una casa e un tetto sotto cui dormire senza la paura che qualcuno possa portargielo via come sarebbe potuto succedere proprio martedì mattina quando l'ufficiale giudiziario è entrato nel suo appartamento con un ordine di sfratto per morosità Per fortuna però a l'Oradel e alle sue bambine è stato concesso del tempo per trovare una nuova sistemazione fino al 21 di novembre Oggi è un altro sfratto siamo qua per cercare di fermare uno sfratto di una donna sola una signora filippina all'Oradel con tre figli minori che è stata abbandonata dal marito e che ha uno sfratto per morosità una donna che ha un lavoro precario che da poco lo ha perso pure che pagava 1.300 euro e con tre figli capiamo bene che non è una situazione sostenibile da nessuno l'Oradel nel frattempo aveva già fatto richiesta di Casa Popolare sia con i bandi ordinari sia con la domanda di alloggio temporaneo in emergenza ma ad oggi non ha ricevuto alcuna risposta da parte del Comune Siamo qua anche per denunciare anche il fatto che nonostante si facciano le richieste di emergenza perché la signora le ha fatte anche le domande di bando ad oggi che siamo con la forza pubblica quindi con l'intervento pure della forza pubblica siamo senza una soluzione abitativa perciò quello che richiediamo oggi sia un rinvio ma anche l'assegnazione immediata di una Casa Popolare Il rinvio al 21 di novembre seppur un aiuto non è sufficiente a risolvere la situazione se entro quella data per l'ora del non si sarà trovata una sistemazione idonea lei e le sue tre figlie rischiano di rimanere per strada Una famiglia che viene sfrattata oggi nella immediatezza le viene proposta una sistemazione in albergo dal coordinamento di emergenza abitativa però questa sistemazione in albergo dura 20 giorni dopodiché dovranno iniziare a pagare 50 euro al giorno parliamo di cifre non sostenibili se nel migliore dell'ipotesi si conta con una rete familiare o una rete di amici si va anche in monolocali in bilocali a condividere dei posti letto pur di non essere separati nel caso della signora che è da sola che non conta con questa rete di familiare alle spalle che è stata abbandonata neanche questa soluzione per quanto non idonee lei oggi ha Torniamo adesso a Pavia a parlare del caso della piscina Folperti ieri sera in consiglio comunale è intervenuto anche il sindaco Fabrizio Fracassi allora ci andiamo a collegare in diretta con Mario Fortunato per capire gli ultimi sviluppi sulla vicenda buongiorno Mario sì buongiorno Luca buongiorno ai nostri telespettatori una settimana fa ricorderete il consiglio comunale aperto richiesto dalle opposizioni e aperto anche alla cittadinanza sul tema della piscina Folperti e ieri un nuovo capitolo non un consiglio dedicato evidentemente ma due instant quest un presentate dall'opposizione in particolare dal consigliere comunale della lista civica Pavia Colori Alice Mogi che chiedeva appunto aggiornamenti dopo sette giorni al sindaco Fracassi aggiornamenti nel concreto non ve ne sono a livello di cronoprogramma c'è una piccola però sfumatura che va analizzata perché nel corso del suo intervento il sindaco Fracassi ha affermato che non esclusa la partecipazione di ASM al prossimo bando bando che è in fase di redazione in questo momento è una sfumatura come tale giornalisticamente va colta però dopo la chiusura della settimana scorsa in cui lo stesso sindaco aveva affermato che le trattative con ASM si erano arenate ricorderete sulla gestione della piscina con ASM che chiedeva la gestione in house la segnazione diretta ASM e il comune di Pavia che di contro non poteva garantire questa soluzione insomma e soprattutto anche un'ulteriore affermazione del sindaco che parlava di un'ulteriore società interessata che aveva portato una manifestazione di interesse all'attenzione del comune di Pavia insomma quest'ulteriore passo di fracassi che ha affermato non esclusa la partecipazione anche di ASM chissà che non vi siano nuovi contatti e che possa appunto prendere parte alla nuova gara nel frattempo proseguono evidentemente anche i controlli con le ispezioni perché vi sono alcuni lavori da effettuare sulla parte impiantistica che sono piuttosto delicati e necessitano di accertamenti che andranno a guardare le tempistiche i costi di realizzazione di ciò che è necessario per garantire una ripresa delle attività non mancano neanche i problemi ha ricordato il sindaco fracassi perché l'ultima società a gestire la piscina la società piscina ha portato via praticamente tutto ha staccato anche la corrente e quindi è un ulteriore problema e il comune dovrà portarsi un generatore o ripristinare l'elettricità per proseguire le ispezioni e tutti gli accertamenti necessari però ecco il dato nuovo è la riapertura dei dialoghi con ASM che saluca che non possa essere poi la società partecipata al 96% dal comune di Pavia alla fine ad aggiudicarsi la gestione della Folpert ovviamente torneremo ad aggiornarvi già nelle prossime edizioni a Terralinea grazie grazie anche a Mario Fortunato noi da un consiglio ci spostiamo a un altro perché ieri sera si è tenuto anche il consiglio comunale a Vigevano dove bisognava capire come sarebbero cambiati gli equilibri interni alla maggioranza perché c'è un nuovo gruppo di Forza Italia si è costituito un nuovo gruppo di Forza Italia ma al momento tra questo nuovo gruppo che dovrebbe sostenere la maggioranza e la stessa maggioranza c'è il gelo 15 a 7 questo nuovo equilibrio politico risultante tra maggioranza e opposizione in consiglio comunale a Vigevano dopo la seduta di lunedì sera c'erano tre assenze Silvia Baldina e Carlo Sant'Agostino che avrebbero votato con la minoranza e Giuseppe Squillanci che avrebbe votato per la maggioranza a ranghi completi quindi i numeri su cui ragionare sono di 16 a 9 apparentemente una situazione più tranquilla per la maggioranza del sindaco Andrea Ceffa finora sostenuta dall'ormai celebre 13 a 12 su cui si erano basati i consigli comunali degli ultimi mesi in realtà la situazione è complessa nel consiglio di lunedì sera ha debuttato il gruppo dei neo entrati in Forza Italia Giuseppe Squillaci nominato capogruppo Giulio Nori e Rimagari Fullina non essendo stati accettati dal gruppo storico di Forza Italia hanno dovuto costituire un gruppo a parte chiamato Forza Italia P.P.E. vigevano 2025 sono rimasti seduti tra i banchi dell'opposizione ma hanno votato con la maggioranza essendo noi entrati in Forza Italia ed essendo il partito nella coalizione di governo dell'amministrazione cittadina lasciamo alla maggioranza di trarne le dovute conseguenze ha dichiarato Squillaci nessun commento né dal sindaco Ceffa né dai componenti della maggioranza un gelo che sarà difficile da risolvere in quanto i tre lo scorso novembre erano tra i firmatari delle dimissioni collettive con cui si era tentato di far cadere la giunta i rapporti con chi in maggioranza invece ci era rimasto garantendo quell'unico voto di scarto che ha tenuto in piedi il governo cittadino negli ultimi mesi non possono al momento essere idilliaci per usare un eufemismo e la distanza anche fisica dei tre consiglieri del gruppo Forza Italia P.P.E. da quelli di Lega Fratelli d'Italia e da gruppo originario di Forza Italia appare emblematica già il loro debutto nella nuova veste però i consiglieri di Forza Italia P.P.E. hanno fatto capire di poter essere utile alla maggioranza lunedì sera si è votato un passaggio tecnico in materia di urbanistica due consiglieri di maggioranza per motivi inerenti alla loro attività professionale si sono astenuti per evitare possibili conflitti di interesse il soccorso del nuovo gruppo non è stato decisivo perché trattandosi appunto di un provvedimento di natura tecnica la minoranza sia in parte astenuta e in parte non ha partecipato al voto se però la situazione si dovesse ripetere quando approderà in aula il PGT ecco che in caso di conflitti di interesse che dovessero costringere qualcuno in maggioranza ad astenersi dalla votazione i consiglieri del nuovo gruppo potrebbero diventare lago della bilancia problemi in maggioranza abbiamo sentito come dicevano problemi in maggioranza anche a Milano torniamo da Giovanni Migone da Amicis perché in questo caso a scagliarsi contro il Comune come dicevamo appunto un esponente della maggioranza capogruppo dei Verdi Monguzzi Giovanni che non ha gradito per così dire l'iniziativa No Parking Day organizzata proprio dal Comune sì esattamente così Luca un nuovo scontro che vede protagonista Carlo Monguzzi capogruppo dei Verdi tecnicamente uno degli elementi che compongono la maggioranza a sostegno di Beppe Sala ma che ormai dall'inizio della consigliatura fondamentalmente possiamo dirlo abbastanza in tranquillità ha continuato ad attaccare in maniera abbastanza pesante anche l'attività appunto della Giunta ricordiamo le sue battaglie banalmente sullo stadio di San Siro per dirne solo una l'ultimo episodio è quello che è andato in scena di fatto nelle ultime ore a partire da domenica domenica si è infatti svolto il No Parking Day un'iniziativa voluta fortemente dal Comune e dall'assessorato al Verde che è ricoperto da Elena Grandi altro membro dei Verdi dunque in teoria compagna di partito potremmo dire così di Carlo Monguzzi un'iniziativa in cui nove vie della città una per ogni municipio si è svuotata di fatto delle macchine comprese quelle parcheggiate ed è stata restituita potremmo dire così a pedoni ciclisti e soprattutto associazioni che hanno potuto fare e presentare le loro attività soprattutto ovviamente in tema di sostenibilità un'iniziativa che almeno in linea teorica avrebbe dovuto incontrare il favore soprattutto dei Verdi un'iniziativa che in teoria apre ha aperto meglio dire la Green Week che è cominciata proprio in queste ore la settimana dedicata proprio al Verde e all'ambiente che ha come centro del dibattito il cambiamento climatico un'iniziativa che porterà in giro per la città circa 350 eventi ma questo preludio alla Green Week questo No Parking Day non ha incontrato assolutamente il favore diciamo così del capogruppo dei Verdi Carlo Monguzzi di cui vi facciamo ascoltare le parole è un bello spot come tutto è spot infatti gli studenti chiamano questo palazzo il tempio del Greenwashing cioè della fuffa delle palle sicuramente nove feste di via vanno benissimo la gente si diverte ma lei sa che ci sono stati 19 morti dall'inizio dell'anno manifestazioni drammatiche in cui chiediamo chiedono provvedimenti concreti l'ultimo dei quali sono le domeniche a piedi ma che si facevano trent'anni fa che faceva Formigoni che faceva Pisapia quello che ci troviamo ma la domenica a piedi è tutta la città a piedi ci troviamo nove pezzi di strada su 4.000 e viene chiamato il No Parking Day ora chiunque si indigna un po' perché è una colossale presa in giro Passiamo alla cronaca torniamo a Pavia da Mario Fortunato per un episodio avvenuto nel weekend un'aggressione nei confronti di una donna trans 38enne nella zona della stazione è un'aggressione che purtroppo è sfociata poi in un pestaggio con la 38enne che è stata poi visitata alla San Matteo proviamo a vedere se è in collegamento Mario Fortunato per gli aggiornamenti sul caso Mario dicevamo un episodio un ennesimo episodio di omofobia transfobia in questo caso in una città che ormai insomma ha una soglia di allerta piuttosto alta per questo tipo di vicende eh sì Luca ricorderete il caso della coppia che è aggredita proprio in stazione nei pressi della stazione dei treni lo scorso mese di giugno ricordavi bene domenica una notizia che è emersa però soltanto in queste ore un nuovo caso a sfondo omotransfobico con l'aggressione di Noemi 38enne volontaria dell'associazione coming out di Pavia accompagnato nel tardo pomeriggio la fidanzata in stazione per prendere un treno risalita sulla sua auto ha provato a far ritorno a casa ma il suo passaggio era ostruito da un'automobile parcheggiata in divieto di sosta lui mi si è quindi avvicinata con la sua auto all'altro mezzo chiedendo al conducente di spostarsi per farle spazio l'uomo descritto come sulla cinquantina alla guida di un mezzo di grande cilindrata a quel punto si è scagliato sia verbalmente con i piteti che non staremo ovviamente qui a ripetervi ma anche fisicamente purtroppo nei confronti della donna trans prima pugni poi la donna è riuscita a spostarsi con la sua auto per chiamarla a pulizia l'uomo l'ha inseguita e l'ha presa per il colo lasciando anche dei lividi una aggressione di una brutalità estrema la donna trans è riuscita in qualche modo a salvarsi come? grazie all'intervento di un uomo che era nel vicino parchetto del piazzale della stazione che ha assistito a tutta la scena e è intervenuto per chiedere all'aggressore di smetterla a quel punto il cinquantenne ha preso la sua auto ed è scappato via come ricordavi la donna è stata portata poi al policlinico San Matteo dove è stata curata sporgerà denuncia in queste ore l'ennesimo episodio che ha scatenato anche le reazioni come l'associazione coming out stessa una brutalità estrema che impone un'ulteriore riflessione il problema che gli episodi continuano ad accadere e nulla viene poi effettivamente fatto per limitarle insomma un ulteriore fatto grave di cronaca su cui riflettere sempre nella zona della stazione torneremo ad aggiornarvi anche su questo caso Luca nelle prossime edizioni tenete la linea grazie grazie anche a Mario Fortunato notizia anche delle scorse ore la concessione degli arresti domiciliari per Elisa Roveda la mamma di 44 anni accusata di aver ucciso il figlio di 11 mesi a Voghera nel luglio scorso la donna sconterà proprio il periodo di arresti domiciliari in una struttura di cura sono stati concessi gli arresti domiciliari in una casa di cura per Elisa Roveda la 44 anni accusata di aver ucciso il figlio di 11 mesi nel loro appartamento di strada mezzana a Voghera nel luglio scorso la donna è stata dimessa nelle scorse ore dal reparto di psichiatria del San Matteo di Pavia dove era ricoverata dal giorno dell'omicidio già durante l'interrogatorio di garanzia non era stata in condizione di parlare e di spiegare le ragioni del suo gesto davanti al giudice la 44 anni era apparsa molto confusa e forse nemmeno pienamente consapevole di quanto avesse fatto al suo bambino dopo il parto Elisa Roveda stava attraversando una fase molto critica ed era in cura per una forma di depressione che si era aggravata con il tempo portandola anche a dover lasciare il lavoro i suoi familiari cercavano di esserle sempre vicini ma la mattina del 14 luglio la 44enne era rimasta da sola per circa un'ora con il figlio dopo che il marito era uscito l'infanticidio si era consumato in quel lasso di tempo la donna era stata quindi arrestata e trasferita nel reparto di psichiatria del policlinico la procura di Pavia ha disposto una perizia psichiatrica con la nomina di un esperto che dovrà valutare la capacità di intendere di volere di Elisa Roveda ma anche se la 44enne sia in grado di sostenere un processo torniamo a Pavia per parlare nuovamente degli interventi messi in campo dall'amministrazione comunale per la lotta al degrado e all'abbandono di rifiuti nel parco nel giardino del centro commerciale Minerva Manutenzione straordinaria del verde e a partire dalla giornata di lunedì una pulizia quotidiana dell'area sono le azioni messe in campo dal comune di Pavia in sinergia con ASM per risolvere il problema del degrado nell'area del centro commerciale Minerva un problema che si trascina da anni e che non è mai stato affrontato con decisione nelle scorse ore gli uomini di ASM hanno proceduto alla pulizia negli spazi verdi così come concordato in una riunione nei giorni scorsi con tutti i soggetti interessati abbiamo insistito che venisse fatto con una pulizia quindi quotidiana ogni giorno quindi due operatori verrà anche curato il verde infatti sta iniziando una prima tranche di interventi che va alla potatura e poi da domani in poi il taglio dell'erba la prima azione pianificata dal comune e la pulizia quotidiana dell'area ma il problema del degrado è più ampio per questo motivo dal primo ottobre vi sarà il presidio quotidiano della zona grazie alla vigilanza privata messa in campo dal vicino supermercato in via sperimentale l'amministrazione comunale punta inoltre a posizionare quattro cancelli per chiudere l'area verde del centro commerciale nelle ore notturne tre per i passaggi pedonali ed uno per quello delle auto di Viale Trieste è stata prevista a carico del condominio una via sperimentale una vigilanza privata per 15 giorni così da verificare l'efficacia di quest'azione successivamente se questa azione funzionerà si valuterà di tenerla in via definitiva oltre alle altre azioni specifiche che verranno decise poi congiuntamente nella prossima riunione che sarà il mese prossimo in cui avremo previsto alcune azioni concrete per limitare l'accesso a quest'area in particolare la posizionamento di alcuni cancelli sulle vie che oggi sono aperte con la collaborazione chiaramente sia dell'ESLunga che con la collaborazione di SM che con la collaborazione del supercondominio e dei soggetti che lo occupano a tutte le ore del giorno e della notte la zona del centro commerciale è frequentata da senza tetto persone che approfittano del buio e degli spazi isolati per spacciare una situazione di degrado che non è più tollerabile il problema che ha tagliato da parecchio va via infatti da anni quasi sono seguiti varie amministrazioni sono passate tanti anni e era sempre dedito chiamato il fortino del degrado oltre al bivacco crociarre o malesse che venivano qui a consumare quindi alcolici c'è anche il problema che ci sono dei minori non accompagnati extra comunitari che non solo danno fastidio ma sono dediti anche a attività quindi illecite ci spostiamo adesso a Parona dove invece la Sagra dell'Offella che partirà il 30 settembre deve traslocare per lavori questo perché in Piazza Signorelli appunto c'è un cantiere aperto quindi la manifestazione si terrà in Piazza Nuova cause e lavori ancora in corso nella Piazza Signorelli davanti al municipio e alla chiesa di San Siro che non termineranno in tempo per l'evento la Sagra dell'Offella di Parona cambia la sede la festa patronale che si terrà da sabato 30 settembre a lunedì 2 ottobre avrà infatti Piazza Nuova come epicentro una decisione quella dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Lorena che era nell'aria e che è stata annunciata in via ufficiale nei giorni scorsi con una nota sulla pagina Facebook del comune di Parona in estate il cantiere di riqualificazione in Piazza Signorelli era stato bloccato per settimane dal ritrovamento di reperti archeologici risalenti al tardo medioevo rinvenuti durante gli scavi effettuati una scoperta che ha reso quindi necessari ulteriori accertamenti da parte degli esperti della sovrintendenza alle belle arti come fa sapere il comune di Parona i lavori di riqualificazione di Piazza Signorelli che sarà abbellita con aiuole e un attraversamento pedonale termineranno a dicembre critico il consigliere di minoranza della lista civica insieme per Parona Renato Soffritti era meglio far partire i lavori in primavera proprio perché ci sono quasi sempre imprevisti così si condiziona la festa che rischia di essere sotto tono ha scritto Soffritti in una nota era l'ultimo servizio tutto per questa edizione del nostro telegiornale io come sempre adesso vi lascio al meteo i nostri TG torano questa sera a partire dalle 19 grazie per averci seguito Grazie a tutti Grazie a tutti.